Musica Solo l'esame della scatola nera chiarirà il motivo dell'incidente che ha visto ieri precipitare l'elicottero del 118 in località Campo Felice, ma probabilmente sono state le proibitive condizioni meteo a provocare l'accaduto. E così l'Aquila piange sei vittime, due delle quali reduci dal gelo della tragedia di Rigopiano. Volavano per recuperare uno sciatore con una gamba rotta sulle piste d'asci di Campo Felice. Erano riusciti a trasportarlo in elicottero e si dirigevano verso il San Salvatore dell'Aquila per le cure all'osciatore romano, anche lì vittima dello schianto. Scarsa visibilità potrebbe essere questo il motivo. Fatto sta che già è stata aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica, coordinata dal sostituto procuratore Simonetta Ceccarelli. Il velivolo si è schiantato su Monte Cefalone, a circa 2000 metri di quota, nel territorio del comune di Lucoli. Il boato è stato fortissimo, tant'è che sul posto sono accorsi molti abitanti e anche persone direttamente dagli impianti sciistici. Il velivolo era un AV-139, era partito dall'Aquila e avrebbe lanciato anche il segnale di crash mentre era nei pressi di Casamaina. La macchina dei soccorsi è scattata subito, ma è stata resa ancora più complicata a causa delle pessime condizioni climatiche. Per raggiungere il punto esatto dell'incidente alcuni soccorritori si sono arrampicati a piedi. La zona infatti è molto impervia e da lì di nuovo a piedi, per recuperare le salme e riportarle giù, sempre sulle barelle. La zona è sotto sequestro e nella notte appena trascorsa anche la strada statale circostante è stata presidiata. Al San Salvatore poi il dolore degli amici, dei colleghi, dei familiari. Un destino tragico che si incrocia a quello della tragedia di Rigopiano. Davide De Carolis, per esempio, del soccorso alpino, era stato uno dei primi ad arrivare a Farindola e ad estrarre dalle macerie e dalla neve dei sopravvissuti. Così come si incrocia a questa tragedia quella del dottor Walter Bucci, medico amato e stimato da tutti all'Aquila, che a Rigopiano era a corso per prestare servizio. Accanto a loro c'erano Peppe il gigante Buono, Giuseppe Serpetti, infermiera Aquilano, Mario Matrella di Foggia, tecnico di volo ed esperto del verricello, Gianmarco Zavoli, il pilota di Rimini e Ettore Palanca, l'osciatore di Roma, che si era fatto male procurandosi la frattura di Tibi e Perone. Tantissimi messaggi di cordoglio giunti da ogni parte d'Italia, da associazioni, da colleghi, dal volontariato, dal presidente della Repubblica Mattarella e da tutte le principali cariche dello Stato. Il sindaco Cialente ha già annunciato che nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino all'Aquila. Un momento duro per la città, scossa dalla terra e da questa tragedia immane, che ha colpito persone che erano conosciute da tutti e che per tutti prestavano la loro opera con professionalità, ma anche con profonda umanità. Sarà difficile reagire in una terra che sta pagando un prezzo troppo alto, ma loro erano lì perché dovevano e perché amavano il loro lavoro. Stanchi magari dopo aver scavato o soccorso, ma sempre al servizio degli altri. Oggi non potranno baciare più mogli e bambini, che non li vedranno tornare a casa. Un sacrificio alto, troppo alto forse, nobile. Per l'Aquila non è il giorno dei se, dei ma e dei perché, ma è il giorno del dolore, troppo profondo da rimarginare in questo momento. Buttada elettorale, provocazioni o forse qualcosa di più concreto. Se lo chiedono quanti hanno appreso nelle ultime ore della proposta circolata in vista delle prossime elezioni amministrative. Un'idea destinata a far discutere ed animare il dibattito cittadino, peraltro attualmente concentrato su vicende di cronaca. La segreteria regionale abruzzese di Rivoluzione Cristiana ha chiesto al segretario politico Gianfranco Rotondi di impegnare il tavolo nazionale del centrodestra sulla proposta di Guido Bertolaso, quale candidato sindaco dell'Aquila, nell'immenente turno amministrativo. Lo rende noto infatti l'ufficio stampa di Rivoluzione Cristiana. Bertolaso, capo della protezione civile all'epoca del sisma del 2009, ha suscitato e continua a provocare città sentimenti contrastanti, non solo per le vicende giudiziarie legate al terremoto in cui è stato coinvolto. Per alcuni fu un salvatore della parria, per altri artefici della sperimentazione di un modello di intervento in occasione del sisma che peraltro fu molto contestato. Il fatto sta che comunque l'opera di Bertolaso, mancato candidato sindaco di Roma nei mesi scorsi, non è stata dimenticata. L'impegno di Bertolaso per l'Aquila sarebbe la migliore risposta all'umiliazione della città da parte del centrosinistro locale e nazionale, ha detto la segretaria regionale di Rivoluzione Cristiana, Anna Maria Bonanni, a commento della proposta che vedremo come sarà accolta in primis dall'ex capo della protezione civile ed in secondo luogo dai partiti e candidati del centrodestra che stanno scaldando i motori ormai da diverso tempo. Grazie a tutti.